Signora, siamo qui nella sede di Poste Italiane a Palermo per imparare ad usare il computer. Lei perché ha deciso di venire? Perché ormai è necessario sapere usare un mezzo tecnologico per poter accedere alle varie necessità della vita moderna. Ma lei pensa di poterlo usare solo per le necessità o anche un po' per divertirsi? Anche per divertirsi. Ad esempio, che cosa le piacerebbe fare? Leggere libri, ascoltare musica, vedere qualche film. Bene, allora la sua tutor la aiuterà per questo. Come le è sembrato questo impatto con questa ragazza così giovane che le insegna qualcosa? Grazie, è una cosa interessante anche perché i giovani non sempre sono disposti a insegnare qualche cosa. e stavolta ho trovato chi è disposto a farlo. Bene, e diciamo da qui ad ottobre lei imparerà ad usare il computer. Crede che sia un'impresa facile o un tantino difficile? Non lo posso dire. Non si sente di giudicare dal primo incontro? No, ancora no. Si riserva di... Sì, mi riservo. Va bene, grazie.